Il pensiero unico non è soltanto politicamente corretto, come usa dire, è in paritempo cromaticamente corretto, già che tende a imporre delle tonalità egemoniche che rispecchino l'essenza nichilistica della civiltà dei consumi e che al tempo stesso ne santifichino l'ordine ogni giorno più classista, ogni giorno più asimmetrico. Ecco allora che spariscono le tinte politicamente scorrette e cromaticamente scorrette, non è più possibile impiegare il rosso a sinistra né il nero a destra, giacché la politica tende a caratterizzarsi per quello che il filosofo Etienne Balibar ha definito l'estremismo di centro. Vengono annichilite, neutralizzate le ali estreme della politica e si genera in tal guisa un centro-destra che è perfettamente interscambiabile con il centro-sinistra. Si finge un'opposizione radicale dietro la quale in realtà è riproposto, a destra come a sinistra, il medesimo contenuto. E tale contenuto coincide nell'essenziale con l'egemonia assoluta del mercato capitalistico e insieme con l'egemonia incondizionata della monarchia neoleviatanica del dollaro come unica sovranità ammessa nel mondo falsamente multipolare, multiculturale, in realtà monoculturale e monopolare, quale si è venuto configurando dopo il 1989. Sicché il ragionevole pluralismo, come lo qualifica John Rawls, faro del pensiero unico liberale nel suo testo fondamentale, una teoria della giustizia, in realtà questo pluralismo ragionevole è puramente fittizio. Dietro di esso si nasconde in realtà il monocromatismo assoluto, per dirla con lo Hegel, della civiltà dei mercati, che quanto più si finge plurale, multiculturale, policroma, tanto più in realtà è monocromatica, monoculturale e falsamente pluralistica. Nasconde dietro il vorticare pluralistico del messaggio unico ribadito in forme plurali sempre e solo l'essenza del totalitarismo glamour della civiltà classista dei consumi, la quale per inciso, come ricordato poc'anzi, è anche cromaticamente corretta. Deve imporre nella sinistra allineata con il cosmopolitismo liberista il fucsia in luogo del rosso comunista, proprio come nella destra, anch'essa allineata con l'ordine liberista in cui si governa non già il mercato ma per il mercato, deve imporre il bluet in luogo del nero. Sicché queste due forze oggi, destra e sinistra, si sono fuse, come già notava Pasolini negli anni 70, sono ugualtito le espressioni del medesimo, sono la doppia apertura alare della medesima aquila del neoliberismo assoluto quale si è venuto imponendo dopo il 1989, che impone, ricordavo poc'anzi, il monocromatico mercato, il monocromatismo assoluto, per usare la bella espressione della fenomenologia dello spirito dello Hegel. Non è consentito essere rossi a sinistra perché ha messo solo il fucsia di una società che non è più identificata con la società emancipata, senza classi, di marxiana e gramsciana memoria, ma invece una società falsamente policroma, la società arcobalenica del gay pride permanente, dove naturalmente trionfano le massime disuguaglianze sociali, ma la gente è distratta dal vorticare policromo dei diritti individuali cosmetici che sussistono a fianco delle massime disuguaglianze possibili, con annesso spostamento dell'attenzione, dirottamento dell'attenzione dalla lotta di classe alla lotta fra i sessi e fra i gusti sessuali. Proprio come a destra non è più possibile utilizzare il nero della civiltà precedente, bisogna mettere soltanto il bluet di un sovranismo fintamente sovrano, che nasconde in realtà il sovranismo assoluto del mercato in maniera tacceriana per rimanere nell'area europea o alla maniera del criminale Pinochet in Cile. L'idea cioè di governare in maniera autoritaria per il mercato e a beneficio del mercato, con lo Stato ridefinito come semplice garante dell'ordine dei mercati. Ovviamente tutto ciò che a sinistra non sia allineato con il fucsia e con l'arcobaleno e quindi rivendichi il rosso verrà delegittimato come cromaticamente non corretto e quindi come comunista, stalinista e così via. Proprio come a destra tutto ciò che non sia allineato con il bluet liberista dell'idea fasulla del liberismo in un solo paese verrà squalificato come fascista, nazista e così via. Occorre rivendicare allora l'esigenza di essere cromaticamente scorretti, oltre che politicamente scorretti, ben sapendo che non si può accettare l'ordine dominante. Occorre recuperare l'idea rossa, se vogliamo definirla così, dei diritti sociali e della lotta per il lavoro e per l'eguaglianza degli individui e l'idea che naturalmente il pensiero unico cromaticamente scorretto liquiderà come nera, della sovranità nazionale come base per istituire, anzi per reistituire democrazia e diritti sociali. Senza sovranità nazionale non è possibile l'intervento dello Stato nell'economia, l'intervento del politico nel mercato e dunque non è possibile fare politiche keynesiane redistributive né far valere la democrazia che è sempre da intendersi come una forza in virtù della quale lo Stato sta sopra il mercato e può disciplinarlo. Occorre dunque, lo ripeto, essere cromaticamente scorretti, oltre che politicamente scorretti.